Cosa vogliamo fare? Oggi vogliamo stringerci intorno alla figura di Santa Paola di San Antonio Cerioni che con la sua intuizione, con la sua convivenza, con la sua intelligenza è riuscita a portare il suo sogno in tutto il mondo. Ci siamo noi convidiosi della Sacra Famiglia, tutti i nostri docenti, i nostri educatori, le vostre famiglie che ci guardano qua sopra. Cosicché anche i miei educatori, avvertendo da noi che sai la verletta di questa sfida, vogliamo lasciarci stimolare dal tuo esempio e dalle tue virtù educatiche ai bambini e delle bambine che ci sono affidati per essere vicini anche al contico educativo delle famiglie che ci riapitano dall'esperienza di Santa Paola Elisabetta e illumina dunque il senso profondo di parole come paternità e maternità. La sua esistenza ci ricorda che generare, dare alla luce un bambino, pur essendo un dono grande, non esaurisce il nostro essere padre e madre. La sua esistenza ci ricorda che generare, la sua esistenza ci ricorda che per raionte è sempre moltoありがとうございます, Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. vivono. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 agli oggetti. quando. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. abbiamo. a tutti. 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 a tutti.